Ciao cari amici, so che il nostro amato Lane sta passando un momento molto difficile della sua storia. Io, in campo, sempre combattuto con questa maglia, anche con il cuore. Adesso dobbiamo combattere tutti insieme per salvare il Vicenza. Sabato ci sarà la partita contro il Padova. Rimpiamo il menti per aiutare a vincere la squadra, anche per ricogliere un incasso importante per andare avanti. Saluto a tutti in Vicenza, in bocca al lupo, un bacione, non mollare mai. Ciao!